I tipi di broker, DD, MMN, DD, STP e CN. Guida le tipologie di broker disponibili nel mercato del Forex, dal DD, Dealing Desk, all'NDD, e poi ancora Market Maker MM, STP e ECN. Esistono vari tipi di broker per fare trading sul Forex e capire qual è la differenza tra una tipologia e l'altra può risultare difficile a causa degli acronimi utilizzati, spesso in lingua inglese. Ma per scegliere un broker è davvero essenziale capire e conoscere i vari tipi di broker che operano nell'industria del trading. Per poter fare la scelta giusta, oltre a poter sfruttare le Forex demo che permettono di esercitarsi con il trading tramite denaro virtuale gratuitamente, cerchiamo di conoscere dal punto di vista prettamente tecnico le differenze tra i diversi tipi di broker. La differenza sostanziale da conoscere tra i vari tipi di broker e tra i Market Maker e tutti i restanti. Se hai pochi soldi da investire sul Forex avrai poche alternative ad un MM. Di seguito tutte le tipologie di broker disponibili. DD, Dealing Desk. Un broker Dealing Desk è un Market Maker MM. I Market Maker offrono generalmente spread fissi e la quotazione dello strumento su cui si vuole investire può risultare al sopra o al di sotto dei prezzi di mercato reali, in ogni momento. I Market Maker sono sempre la controparte del trader, il quale non tratta direttamente con i fornitori di liquidità. I Market Maker guadagnano attraverso gli spread e di solito aprono anche delle posizioni opposte a quelli dei loro clienti a fini di copertura. NDD, No Dealing Desk. Un broker Forex NDD fornisce l'accesso diretto al mercato interbancario, ma può essere un STP o STP o un broker ECN. Con un vero e proprio broker No Dealing Desk, non vi è alcun requoting dei prezzi, il che significa che si può tradare durante annunci economici senza alcuna restrizione. Gli spread offerti sono più bassi, ma non sono fissi e quindi possono aumentare in modo significativo quando la volatilità è in aumento durante eventi particolari sul mercato. Un broker NDD può addebitare una commissione su ogni transazione o scegliere di aumentare lo spread. STP, Straight True Processing. In modalità STP, le transazioni sono completamente informatizzate e vengono immediatamente trasformate sul mercato interbancario senza alcun intervento di broker. ECN, Electronic Communication Network. Il broker ECN fornisce informazioni in tempo reale sul portafoglio degli ordini, con gli ordini che sono stati elaborati e di prezzi offerti dalle banche sul mercato interbancario. Ha in tal modo la possibilità di migliorare la trasparenza, fornendo informazioni a tutti i partecipanti al mercato. I broker ECN di solito guadagnano facendo pagare una commissione sul volume scambiato. Con i broker ECN, tutte le transazioni sono elaborate direttamente sul mercato interbancario in modalità greffeggiano di LingDesk.